Questa percezione della solidarietà, questo valore straordinario è il valore fondamentale che ci dà la possibilità di capire la profezia di ciò che verrà. Ciò che rimane è proprio la gioia della condivisione. Nello scenario di questo mondo tante cose possono cambiare, più o meno nel meglio e nel peggio, ma quello che ha un valore, che supera i confini di questo mondo è assolutamente la condivisione. Il paradiso è la condivisione piena. E dicevo all'inizio di questa celebrazione, mi ritrovo a parlare dinanzi alla telecamera dietro la quale ci siete voi, attende all'altare il carissimo Luigi, ma soprattutto c'è padre Pio. Chissà che cosa pensa lui di queste parole che sto, così, in questo modo, in questo momento anche, che sto condividendo con voi. Sono certo che padre Pio, che da sempre ha vissuto anche i suoi momenti di separazione, proprio la segregazione vera e propria alla quale è stato sottoposto, non gli hanno mai negato la possibilità di vivere questa esperienza di condivisione, di abbracciare tutte le sofferenze di questo mondo, di farle sue, così come stiamo sperimentando straordinariamente in questi giorni. E lui che oggi condivide con noi tutto questo dal paradiso, ci dia la possibilità, la serenità di di superare questi momenti così difficili con quella gioia e quell'ottimismo del cuore che solo un cristiano in Cristo può avere e comunicare.